bella ragazzi qua jammy toske con 32303 ragazzi siamo con noi su gt online credete che conosciate credete che lo conosciate lui no? no non penso tra lui ha 64 iscritti lui ha 64 iscritti ma io voglio arrivare a tutti gli iscritti vero? si si allora quante like proponiamo? abbiamo 25-30 like ok io mi distraggo c'è uno con la taglia quello al jet no quindi proponiamo fermati fermati ancora sto dire la linea si butta si butta a lui è però si butta ok non andrò 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 e cori 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 per favore vanti oh cecchino allora ragazzi comunque si proviamo 25-30 like per questo video e niente ora ci stiamo preparando per un colpo che ci ha proposto il nostro caro amico lester ragazzi ragazzi viva qua dato se noi andiamo alla stanza del colpo il tuo amore andiamo alla stanza dove sei a h h ecco andiamo alla stanza siamo qua perfetto eccolo un po' sveglia con un minuto un po' sveglia con un minuto un po' sveglia con un po' sveglia con un po' sveglia con un po' sveglia con un minuto per aspettare il suo amore abbiamo pubblico immediatamente il colpo lui sfondo basse fondamento contro le porte non mi ha chiesto ok ok niente stai pensando allora io penso che la difficoltà normale va bene armi e venire attimo dati niente no ok viviamo tutti i baffari la sessione attuale ok invitati ora se no aspettiamo un attimo che aspettiamo tanto ok il nuovo giorno da normale armi carabina speciale va bene anche quello quando noi gli ammere di me del mezzo necchi il cld calc ragazzi dai e entriamo veloce in fronte in bombay la sala che è il piano e dall'ultimo volta va bene va bene va bene va bene va bene allora a moche entra il secondo pacco di merda inizio colpo della fleca sopra luogo tutta faccia la taglia vedete mi si dice questa è la fleca bank del western gateway fantastico dai devi mettere uno devi mettere solamente uno dai muovere me crew io dico ragazzi c'è un commento bella e come mi piace quanti lasciamo quanti invece promuoviamo facciamo 30 30 mi piace 30 mi piace va benissimo 30 mi piace per altri video insieme ehm ditecelo nei commenti ragazzi sì sì un senso lo toglieremo un pazzo di merda che entra oh eccolo eccolo sta entrando via raga sta entrando sta entrando se abbandonami in tasso seba dai in attesa in attesa in attesa è in attesa seba ci senti tanto l'andrea parla con lui seba giocato 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 subito allora la visione sebastiens ci senti non ci sente ragazzi non ci sente allora se ci senti fai un segno no niente segno non ci sente ok noi giochiamo noi giochiamo allora purtroppo non possiamo metterci d'accordo ecco lui non tolma ma salvia intanto a si rilaneva l'estero ah sì e' un altro problema quanta figlio quanta figlio quanta figlio porca troi e' un'altra e' un'altra ma è un'altra ora raga eh la chiacchierata di vasterve la togliamo perchè ci grattiamo i coglioni noi figuratevi voi un pericine oi street x ok perchè e' 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 ricordati per fare i riniti un po rinni meti di eric e lì chip e ti fa la altra cittadina roma in enorme cittadina roma andata a indovinare vorrebbe dire oh dai capovarti i denti il borchio questo non vedete il posto non vedete il posto bambina ma mi piace molto la preparazione fantasticamente speranza ha capito un cazzo dico eccoci eccoci stavo dicendo che io non ho capito un cazzo di quello che dobbiamo fare o no va bene la moto per favore non sta la moto no 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 ok ci fa l'onore di guidare lui allora noi ci tagliamo di più nel personaggio quanto è brutto questo è ciò che c'è detto nonostante e' tutto e' cazzo un nuovo mancano tre chilometri e' arrivare i miei un batter d'accia ok e' l'amore e' l'amore ma tutta questa cosa la tagliamo fatta arrivare un batter d'accia e' facciamo sempre le stiamo e' l'amore e' l'amore e' l'amore e' l'amore e' l'amore e' l'amore o' l'amore no e' l'amore a a a a a a a a a niente aradigate di un pacco intelligente simbucca non è intelligente il pacco del pacco del pacco del pacco del pacco del pacco del pacco non ha avuto la nota di un belito un uomo un uomo tra il mare il corpo non è sbagliato un po la macchina poteva per far il cazzo il conto attraverso il marco giudice mediello ragazzi siamo arrivati mancano 300 forza se andiamo all'ospedale manca di più la mancano 370 metri del corpore del tema e adesso vai 300 vento 250 200 150 100 metri 50 il titolo ok siamo arrivati siamo arrivati ecco qui dato un'occhiata mi sento il rischio di sicurezza tramite cellule dato un'occhiata ora diamo un'occhiata ok ci piace il personale non parla spiega spaventano le cassette di sicurezza gli altri saranno impegnati a pensare come scriverci su una sceneggiatura non lo so cazzo che cazamorto cazzo che banchetto il data sette che ci interessa è la numero 126 127 lo so non ci ha fatto caso primo che dobbiamo fare ah ok dobbiamo tornare alla fabbrica ragazzi torneremo anche qui in un batterdotto ok 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 guida il segnale allora raga guida il segnale 3x per avviare il segnale per modificare dove dobbiamo avviare ah ok ha capito ha capito ho capito ok 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 guardalo mamma mia che pro in cui ho comprato il sistema di decodifica per continuare e qui ok ok ah quello che tutto come qua mh no vai raga vai raga ce la facciamo vai vai guardalo 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 oh vai 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 ok no naso allora vai vai ahahah cazzo di vita intanto noi staranno andando a schiantare dappertutto mamma mia mamma mia mamma mia ok siamo entrati allora tre circuiti infatti ok abbiamo fatto tutto il sistema di decodifica fatto ok manca tanto un chilometro un chilometro ragazzi siamo arrivati manca 900 metri fino adesso 900 metri manca un chilometro manca un chilometro non mi ha detto che non mi ha detto che non mi ha detto che non non mi ha detto non c'è in particolare in particolare vengono 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 con il porto e rarri 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 la rarri e rarri e rarri maria maria la vita sfottiva gente e' la mia ok la mia la mia vita è un problema un la mia vita è un bel tempo tutto un canale abbiamo fatto per riconoscermi la guida io faccio di merda ma scusate non poteva venire allora ragazzi arriveremo un batto d'occhio bravo e il 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 non il il non capisco il allora intanto loro con fabbola noi ci prepariamo psicologicamente per intanto abbiamo affittato una cazzo non montone brutta tossica allora qua lui è il nostro diciamo guidatore personale anzi vedo un cazzo quindi dobbiamo vedere d'acqua e copia del genere sembra quasi un esplosivo un po sembra che sembra un esplosivo però comunque siamo arrivati il nostro can la nostra ma che cazzafatto cazzafatto mamma mia ha fatto qualcosa di giamore che camma ma dai non 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 eccoci qua la razione di bravo oaga ora la prima non 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 ma finita il corpo il corpo è ancora finito e' un po' di questo tempo eccoli qua ok 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 eh si sono così una margena di visibilità lì ma ma come come l'esterno c'è tagliamo la rottura di la trapanatura anzi di maroni di l'esterno un 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 commento un una 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 un 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 Non c'è nulla Oh, prego la qua che non ci duccai, sì. Ah, fai già l'amore buono. Vedi che già vanno da me. ok alcuna potrebbe non si riferirà completamente via faccia quello no il sopralluogo già l'abbiamo fatto quest'armoglietta sono mostrati le ripagimenti le armi e i componenti digitali per il colpo tanto nella preparazione e nel colpo conclusivo fantastico mamma mia mokado che serve la pallata maschera è adancato non ma vabbè pure sta porta tagliamo dai facciamo un solo smissione dai ragazzi torniamo qua siamo tornati a battere d'occhio adesso confermiamo impostazioni allora ci sono predefiniti scelta totale squadra blocco va bene va bene va bene va bene i giubbattanti proietti porco allora i membri della mia gru crew 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 e poi anche la sessione mi chiuderemo mi chiedevo mi chiedevo mi chiedevo mi chiedevo mi chiedevo tutte le mie sessione sono tutti qua ho convinto e via la mia e via la montagna ora in 3 sperando che non sono offline linea ultima linea backstack è occupato un amico non mi piace la mia la mia la mia la mia la mia un giudizio chiamone del campionato sebastien credo di me sebastien non ci chiamano almeno il primo in unico ecco la grande serba allora raga abbiamo spesso andrei il nostro per il mio amore sebastien sebastien aeree ok noi giochiamo noi giochiamo con il nostro che ti compagno mamma quanto siamo figli si è strada casual ribelle no ribelle mamma mia ci sta la pegassi no aspetta strada bandana così mai scagnozzo sacchetto così mamma mia vediamo qua che ci abbiamo inviato il nostro isolante gargianti come è questo quale è questo no 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 ok se il minuto il piano nasce a un prontano per la moda ok posto siamo pronti aspergono non la moto nostra motore non 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 mi non 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 mi chiedevo la mamma che la mamma mi chiamo mi chiamo mi chiamo con i miei raggi un'attività 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 i ragazzi e loro non hanno fatto il colpo raga innanzitutto mi sa che dobbiamo rubare una mattina blindata un'attività cazzo ci siamo andati a chiantare cominciò a dire che bocca il muro ma che già la rubata lui l'amore giocatore l'esercizio all'ultimo piano di questo carattolo indagato la maschera ok ci siamo otanile ma questa è la carta all'ultimo bianco stasso ancora sopra fatta e questi quali ciao ecco e la macchina no ma non mi ha mai cazzo abbiamo il botto adegu stai giù stai giu aspetta fatti ricaricare la vita vai coprirò vai vai asciaci un corno no cazzo è morto ma dai non è morto vero no porca buttana davvero no la via mi cuore sta parte che abbiamo fallito la togliamo mi chiede via lei si giubbotto pesante ma da te lo che cazzo sebastien non è normale ogni volta ci si sa che ogni volta il mio posto sempre domenica non della fletta e qui qua ragazzi sono tornati in un battaglio sperando che ci siamo sperando che ci siamo sperando e collagione non muore non muore non muore non muore un'altra d non andare più avanti rimani qua non arrivare fino a su ok siamo arrivati in modo dobbiamo fare un macello chiamo che sale eccolo vai o vai vai eccoci ragazzi eccoci ci siamo sono fatti di merda fatti di fango un'idea di una macchina no cazzo non è quello non è quello è quella no 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 si che cazzo mi fa un attimo a me no 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 ma caccia che figata 2 1 io vorrei no 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 era una macchina blindata era manodetto che era ma noi non c'è no no cacca cazzo ma spavano come che ero c'è 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 chanel mamma mia amata mailare scuola marco in london m m c'è siamo arrivati in vivi e vedi in mamma mia preparazione vittoria ok ancora bene iniziare il colpo ma quanto cazzo il corpo di giuda allora ragazzi c'è una lara di sotto la macchina di sotto la macchina si eh si può fare così eh perchè si fa così ragazzi quanti like proponiamo? questa parte la tagliamo che si vede il computer c'è 30 minuti che registri eh? io ero 30 minuti che registri eh? io ero 30 minuti che registri eh? 30 continuano il prossimo episodio che lo facciamo no 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 sai che ci dobbiamo mettere ci mettiamo soltanto la parte va bene dai no 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 ma se pinta sì no 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 il nome ha visto un atto gioco non mi ha detto che non è quello che non è quello che non è quello che non non mi ha il piatto no mi il merda non troppo non è che non è la tua moto non fa niente e neri anzi no è minaccio non ma scusa guarda facciamo le preparazioni in questo video poi non facciamo subito il prossimo video non esiste a trappolo quando la mamma proviamo ma allora l'attacco dei droni non è un problema non è un problema ragazzi i miei quanti i quali per quanti attuale a un'ora con con il poste con con la compagnia diciamo 10.000 con cos'è l'acqua e con la vera e con la vera la grande no capo e e quanti 30 diciamo tanto mi piace per te con un po' stretto di un po' che si va bene ecco col cravattino oh io ho preso no amico non ti voglio che parte del piano che ne dobbiamo tenere soltanto soltanto per un gioco ultima segnali di un bene soltanto la parte dove andiamo a vedere la banca l'abbigliamento ok dove andiamo a vedere la banca dove dove andiamo a frega la macchina è questo non puoi i dati questi qua non li teniamo non non ok ok non puoi all'attentazione lì ciò dovrebbero rendere un che significa me che a buccio il amico metri ieri come si chiede che significa non lo so non lo so non lo so l'unico 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 il mondo l'uomo non fa niente eccolo è il nostro vadello la pizza dai gioca mi senti? è il nostro vadello 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 il nostro vadello è 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 il nostro vadello 70 e 30 70 e 40 per forza 70 e 30 si deve fare no 100% 70 più 40 fa 110 gli dai 40% gli dai 30 calavano 70 la vita perché guidatore che guidatore l'invito grandisio così da fine no rc 6 non lo allora ragazzi tanto sta parte la tagliamo non parlare non 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 no camilla no accanto di buccia fare no non guarda dove vai ... ... ... ... ... ... No, 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 no. l'idea allora ragazza un'aria ieri anni che non non no no non imparava il video no 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 No, non so io cazzo non l'avevo visto cazzo non l'avevo visto finiamo con il video c'è un pubblico di merda uscito non possiamo fare più un cazzo capito? vabbè ragazzi questa merda scena non possiamo fare questa questa cazzo di cosa cosa il polpo vabbè ragazzi vabbè ragazzi facciamo un cazzeggio io vabbè allora ragazza tutti tutti buon ragazzi c'è tutti ragazzi ciao tutti ragazzi dammi e da raba 3 0 e qua di letto voliamo c'è trenta like che fa seguito trenta vai ragazzi androvi 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 corri corri per favore va ohhhh il cecchinato allora ragazzi comunque si troviamo 25 30 like per questo video e niente ora ci stiamo preparando per un colpo che ci ha proposto il nostro caro amico lester ragazzi vedi qua dato se noi andiamo alla stanza del colpo questo amore andiamo alla stanza dove sei H H ecco andiamo alla stanza siamo qua perfetto eccolo l'unica il boswell con un il 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 ok ok se sento no mi vola quando ci st diciamo me lo mi ha imparato aspettare cui non si manda via il colpo abbiamo subito immediatamente il colpo lui sfondo ma sfondamento contro le portano non è un pochino ok 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 niente stai pensando allora io penso che la difficoltà normale va bene armi degli altri modali niente ok viviamo tutti i barcardi la sessione attuale ok invitati ora se no ci spettiamo un attimo che aspettiamo tanto no carabinati la barbara c'è quello che voglio dire che il mio dico il mio dico il cd ragazzi vallia entriamo veloce allora qui si è molto più importante via conferma impostazioni bombi bomba la sala che è caldo l'ultimo volto va bene va bene va bene va bene allora a modo che entra il secondo pacco di merda inizio scopo della fleca sovalluogo sull'inizio di questo è la banca del western highway fantastico min non è vero che è veramente un modale unico io ragazzo c'è un commento bella e come mi piace noti lasciamo quanti invece non mi amico facciamo cantami mi ha tanto mi piace 80 mi piace per altri video insieme per eeeh ditecelo nei commenti ragazzi si si questo pezzo lo prenderemo no? un tazzolino merda che entra oh eccolo eccolo sta entrando sta entrando se abbandonami in tazzo seba dai in attesa in attesa in attesa in attesa andrea seba ci senti? quanto l'andrea parla con lui non so sta entrando? gioca dai subito allora noi in attesa non ci senti? non ci senti ragazzi non ci senti allora se ci senti fai un segno no niente segno non ci sente ok noi giochiamo noi giochiamo allora purtroppo non possiamo metterci d'accordo ecco lui non trova a 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 in in t la la togliamo perché ci grazie a me con le mie noi figuratevi voi con su x ok per 10 me e e e pericolosi pericolosi di un uomo inoltre vedo un po' aiutare il proprio pericolari il fai pericolosi un uomo ieri e ieri e i tt palazzi di Roma ma i miei amici di palazzi e vittima roma andata ad indominare il luogo ciao do vorrei dire questione o dai cazzo l'attività iniziale 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 look the post non vedete il post bambina da me piaciuto la preparazione fantasticamente speranza ho capito un cazzo, eccoci stavo dicendo che io non ho capito un cazzo di quello che dobbiamo fare un'altra cosa non è una moto per favore non fa non è una macchina ok ci fa l'onore di guidare lui allora noi ci tagliamo di più al personaggio questa c'è già c'è il credito c'è vettoso e cazzo un nuovo mancano tre chilometri e arriverevi un batter d'acqua ok per l'elemento un'altra cosa fatta arrivare un batter d'acqua e facciamo dire che ho da pericolo raccoglie ma che coglione ok oh oh Andrea Ora se intelligente si butta, se intelligente si butta, non è intelligente. Grazie a tutti, grazie a tutti. Porca puttana, se andiamo all'ospedale manca di più, allora mancano 370 metri, 200 metri, 200 metri, 300 metri, 30 metri, 30 metri, 30 metri, 30 metri, ok siamo arrivati, siamo arrivati. Ecco qui, dato un'occhiata, mi sono inserito nel loro circuito di sicurezza tramite cellulare, dato un'occhiata, ok, allora diamo un'occhiata, ok ci piace personale, è una porra di distanza specialmente per le cassette di sicurezza. Cagni sarà impegnata a pensare a come scriverci su una sceneggione. Cazzo che casemortà, cazzo che banchetto. Allora, il datac, CT che ci interessa è la numero 123, 127? attraverso non ci ha fatto caso il muo che dobbiamo fare ok dobbiamo tornare la fabbrica ragazzi torneremo anche qui in un battaglio proprie il proprie assicurato guida il segnale allora la mia segnale per amiche per avviare il segnale per modificare dobbiamo andare a acqua ea capito capito pensare a finire tutta la missione allora dai che c'è la facciamo dai che mi ha insegnare ma dai che così fai vai guardalo mamma mia che pro il mio contatto il sistema di decodificare continuare di casa congico ai raga vai raga che ce la facciamo vai vai guarda lo guarda lo guarda lo guarda guarda lo guarda lo guarda lo guarda vai 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 ok fatto no 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 intanto noi stanno andando a schiantare da per min ora mamma mia mamma mio mamma mia ok siamo entrati la tecnici infatti ok abbiamo fatto tutto un sistema di politica fatto ok manca tanto un chilometro ok via ragazzi siamo arrivati mancola 900 metri fino adesso a 900 metri un po' manca un chilometro solamente finché adesso parliamo di un nuovo manco un chilometro non è diventata più forte è un gioco ma non è un po' e poi iniziamo a ragazzo da mangiare a mangiare a mangiare a mangiare a mangiare a mangiare a mangiare siamo così rimane a conoscere me ne vediamo alla coppia un po' 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 e' chiaro una via anche qua puoi che una quando c'è il soltanto un lavoro del fatto bravo l'alberto 1.2 il giro per arco mamma mia arco in cui la vita sportive gente è la mia ok il quadri giallo entrava non è venuto per la macchina min non è vero che si chiara per non è morto in canale abbiamo fatto 15 abbiamo fatto piacere di conoscermi no guida io faccio di merda ma scusate non poteva venire lei allora ragazzi è riferito in un battito l'occhio bravo oh, dovevo fare tanti dati no i i i i i i or via la domanda la domanda no una volta la cosa per me i poi provare cosa non va a cambiare la lettera un numero non un po' non c'è ragazzi siamo arrivati a questi quali hanno 100 metri erano i quali conto per te allora intanto loro con fabbola noi ci prepariamo psicologicamente per il mondo di nuovo intanto abbiamo affittato un non ho detto che c'hanno che cazzo c'hanno con il tuo mondo vedere ma montone è brutta tossica qua lui è il nostro diciamo guidatore personale anche in un cazzo quindi dobbiamo vedere l'acqua è il codice sembra quasi un esplosivo sembra si sembra un esplosivo però comunque siamo arrivati al nostro caso la nostra ma che cazzo ha fatto cazzo ha fatto mamma mia ha fatto qualcosa di giamore che amare ma dai allora il mio paragone garage eccoci qua preparazione fisico bravo ho già ora ora la prima volta che mi ha migliorato non ci può non ci può ma finire con no il corpo è ancora finito e un po' di credito ecco qua ok ok eh eh si sono esposibili eh si sono esposibili una variegazione di esposibili mazzavrole speciali come l'ester azzetto allora raga puremo vi tagliamo la rottura la trapanatura anzi di maroni di l'ester un po' sto facendo come si sta raggiando come si sta raggiando uh 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 se ci sono c'è un giudo in questo mondo ha venuto un giro ahah 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 Non fai. ok o frego la macchina e non ci ducca ma fai nemmeno tu metti davano da me ok qualcuno dovrebbe mettere completamente oh no il sopralluogo che lo abbiamo fatto quest'armerietta deve mostrarsi l'integinità delle mie componenti digitale colpotente della preparazione e una colpa conclusione fantastico mamma mia moccato quello che serve la pallata masca io non c'è dos mmm va bella pure sta parte tagliamo dai facciamo questa cosa missione dai ragazzi torniamo qua siamo tornati in batter d'occhio adesso confermiamo impostazioni allora c'è un definiti scelta totale squadra blocco non va bene va bene va bene il giubbattante proiettivo contatto allora i membri della mia gru io credo che il cliente di un pd poi anche la sessione mi amici amici che giocano gta ok ecco tutte le mie sessione sono tutti qua ho occupato evitato evitato contatto in tre sperando che non sono offline ultima line backstack è occupato un amico giambi d'occhio giambi d'occhio non c'è chiamare tanti altri sebastien credo che sebastien non c'è niente almeno aspettiamo almeno lui ecco grande seba allora raga abbiamo sempre il nostro fedele compagno se passi entrando ok noi giochiamo con il nostro fedele compagno mamma quanto siamo figli si le strada casual ribelle no ribelle mamma mia ci sta la pegassi no aspetta strada bandana non il bai mi ha detto che mamma mia vediamo qua che ci abbia migliato il nostro isolante l'aggianti non è questo qual è questo no 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 ok si non mi chiamano la cia non pronta per amore ok posto siamo pronti aspergono non la moto nostra motriamo non abbiamo rubato non abbiamo rubato la macchina blindata per il colpo eh beh io non abbiamo non c'è nessuno eh si vengono mi come dire a me ruba la cruma metti la sua mamma metti la mappa metti la macchina con i miei ragazzi non c'è non c'è i ragazzi e non sono la percorso mi dica raga innanzitutto mi sa che dobbiamo rubare una macchina blindata cazzo ci siamo andati a chiantare non direi che bocca al muro maneggia la rubata lui fai da crani la mia parola la giaccia c'è l'italia all'ultimo piano di questo darai sulla domanda l'azona che la fa ok ci siamo italiani ma questa è stata l'ultimo piano a sasso la via ancora sopra e aspetta che questi quali e' attacchi ciao ecco e' la macchina la macchina cazzo abbiamo di un botto oltre il tempo sei giù aspetta fatti ricaricare la vita vai coprirò ma vai a ciasci un corno un nuovo calcio morto ma dai porca buttana davano min un 3 3 3 la parte che abbiamo fallito la togliamo 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 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 6 6 7 7 7 7 8 8 9 9 10 9 9 8 8 1 9 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 8 9 9 9 10 10 god chiamo che sale eccolo vai o vai eccoci ragazzi eccoci ci siamo ci siamo non sono partiti di merda fatti di fango fatti di tronzo 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 e quella quella non non no moto si che cazzo mi va a guardare no marcia che figata stava 2 1 io vorrei direi c c no 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 allora era una macchina blindata era ma no no ma noi no 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 ma no 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 maia da saturday maio no 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 siamo arrivati vivi e d d d no 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 preparazione vittoria ok ancora bene iniziare il colpo ma quanto cazzo corpo di giuda allora ragazzi c'è una lara di sotto la macchina di sotto la macchina quello si può fare così perchè si fa così ragazzi quanti dai che promuoviamo? questa parte la tagliamo che si vede il computer c'ho 30 minuti che registro eh? io ero in 30 minuti che registro mortacci che tagli ha entrato 15 6 e 10 eh no quei tagli? una ventina non è questo del primo se ne possiamo fare stabbiamo il video qua e continuare il prossimo episodio che lo facciamo rubito no 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 tagliamo a vedere guardi che vieni a casa nostra vuosti ammazzare? no 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 armazzare ma non abbiamo un nuovo piano vedan per casa aspetta non il mio guarda il caso aiutati lo sapevo che mi è venuto a dare investire il figlio di puttano mangi se che ci dobbiamo mettere mettiamo soltanto la parte nonostante nonostante se lo faccio nonostante nonostante ma se ti dà la nostra modula puma nonostante nonostante sottotagliato poco il nome di su un gatto quanto ci vuole odio in quella fiora il mio il mio sport di gioco non mi ha detto che non è quello che non è quello che non mi ha detto il piatto sono scuola il mondo non è un modo non fa niente l n. anzino abbinato il testo chiamano non scusa guarda facciamo le preparazioni in questo video poi muo facciamo subito il prossimo video o no non è città con un cazzo quando la montagna vogliamo ma non ho l'attacco dei droni andiamoci un po' a un po' di conto ah ragazzi ditemi per quanti like promuoviamo con Ghostredder diciamo 10.000 con Ghostredder e con Gabriel Square e con Ghostredder e con Ghostredder no 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 Gabo e Gabo e e Ghostredd quanti? 30? 30 mi piace per tipo con Ghostredd dire con Ghostredd dai che si va bene ecco lì ecco quel cravatino io mi appassionato dai 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 no abbiamo il corpo ragazzi no 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 ti dico io che a parte dobbiamo tenere dobbiamo tenere soltanto soltanto forse non ci sentono tutti i nostri diali che dobbiamo tenere soltanto la parte dove andiamo a vedere la banca aspettabiliamento ok dove andiamo a vedere la banca dove dove andiamo a vedere la macchina è questo non puoi i dati questi qua non li teniamo no tu non puoi dai Sebastian ha fatto quelle torre delle persone che significa il mio più a voce è l'amico è l'amico è l'amico è l'amico è l'amico è l'amico è il mio come si che che significa non lo so 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 è la bruca non lo so non lo so dai seba entra non 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 eccolo è un altro vado la vita non c'è un po mi canti non 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 100% 70 più 40 per 110 10 lì da 40 per cento gli da il 30 30 70 no perché il guidatore tu perché il guidatore tu non non continuo a più da un bruno s rc sei no allora ragazzi quando stava tagliamo non parlare d vini no 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 l'acqua è cazzo di buttare non mi non guarda dove vai il sistema Allora ragazza, vogliamo la... E arriviamo? Allora, vogliamo! Era una brena No! Tu non guido questa volta Non li imparava Un video si andava a puttana No No, non so io Oh! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.